Musica Sarà un 8 dicembre diverso per i torresi. Quest'anno non sarà possibile realizzare per le vie cittadine la tradizionale processione del carro dell'Immacolata. Una scelta obbligata per l'emergenza sanitaria non ancora conclusa e in considerazione delle norme del protocollo CEI-Governo Italiano e delle disposizioni del Cardinale Arcivescovo Crescenzio Sepe per le norme anti-Covid. Quest'anno per le disposizioni del Governo Italiano e degli accordi con la CEI e anche per le disposizioni del Cardinale Arcivescovo per la nostra città non potremo realizzare la tradizionale processione per le vie cittadine. Ci saranno le celebrazioni, i rosari, i adorazioni, i predicazioni in Basilica nella quale poi daremo tutte le disposizioni cammin facendo per come poter accedere in Basilica. Per questo particolare momento la venerata immagine dell'Immacolata sarà esposta in Basilica su un'apposita struttura che per l'occasione utilizzerà il tradizionale scivolo del carro trionfale e sarà circondata da tutti i puttini con i simboli mariani. Per venire incontro al desiderio di venerazione l'immagine resterà esposta nella navata centrale della Chiesa per tutto il tempo delle feste natalizie. Ho pensato che proprio per favorire la venerazione dell'immagine dell'Immacolata resterà esposta al centro della Basilica anche durante tutte le feste natalizie quando tanti torresi vengono da tante parti d'Italia. Speriamo che si possa venire perché il coronavirus, il lockdown ci ha aiutati a recuperare un valore evangelico quello di vivere giorno per giorno. Speriamo che a novembre potremo uscire col programma delle celebrazioni annuali e allora secondo quel momento vivremo le celebrazioni sia di San Vincenzo che dell'Immacolata Concezione. Per oggi basta questo, insomma, esponiamo il bozzetto, do l'assicurazione che l'Immacolata sarà esposta in Basilica in maniera solenne, faremo in modo che nei giorni della novena, nei giorni delle feste tutti possano passare davanti all'immagine dell'Immacolata ma sempre in attuazione di tutte le norme di sicurezza. Intanto sabato 19, come da tradizione in occasione della festa di San Gennaro, patrono della città, è stato esposto in Basilica il bozzetto del carro trionfale dal titolo Viva Maria. È tradizione che proprio nel giorno di San Gennaro venga esposto il bozzetto del carro dell'Immacolata che è stato preparato dal professor Raffaele Di Maio, Ave Maria, Ave Maria, perché è la preghiera che impariamo sin da piccoli, ma anche l'Ave Maria la recitiamo nei momenti dei bisogni, nel momento del pericolo. Mi diceva il realizzatore del bozzetto, ecco così chiunque guarderà questo carro potrà dire Ave Maria. Momento importante è la riapertura della Cappella di Santa Croce. Ecco, come sapete il 14 settembre ricorre la festa dell'esaltazione della Santa Croce perché qui in Basilica conserviamo un pezzetto di legno della Croce di Gesù e con il reliquiario molto prezioso del Settecento che fu dono dei caraffa alla parroccia di Santa Croce. E proprio per custodire in maniera dignitosa e anche solenne questa reliquia proprio nel 1920, cento anni fa, fu costruita questa cappella che noi diciamo giustamente la cappella delle reliquie perché oltre alla reliquia della Santa Croce in questa cappella venivano e tuttora sono anche venerate le reliquie di molti santi, molti di questi martiri. E al centro della cappella c'è una bella icona che rigiama proprio l'esaltazione della Santa Croce e in un'anichetta veniva posta questa reliquia molto preziosa della Croce. C'erano delle infiltrazioni di acqua dall'esterno per cui negli anni precedenti abbiamo provveduto sempre gradualmente al risanamento esterno della cupolina e anche delle mure attraverso le quali c'erano le infiltrazioni e poi abbiamo fatto una grande pulizia ma la cosa più interessante è l'illuminazione a led che esalta i colori e le immagini di questa cappella. è visitabile tutti i giorni perché essendo illuminata a led rimane illuminata tutti i giorni io suggerisco di guardarla di sera perché la luce serale esalta di più i colori e il cielo stellato del cupolino.